Cosa dire, 300 giorni avevano detto che lavoravamo per questo obiettivo, fino alla fine, all'ultimo secondo, una stagione bellissima, sofferta, fino in fondo, dove ci siamo veramente divertiti, abbiamo sofferto, l'abbiamo fatto per noi e per questo pubblico meraviglioso che ci ha seguito sempre in tanti e ovunque, complimenti a loro, e noi abbiamo fatto semplicemente il nostro devere, giocando veramente di squadra di squadra. Grande Gigi, grazie. Sonti Forlì, grande Gigi.